Monte Prata, febbraio 2010, Luigi Garbuia in azione. Forza Pagetti, devi scaldare, su, vai. Ecco Gris con la solita curva ad arco medio e Enzo Subidotopo. Vittorio Cervigni, arriva Vittorio Cervigni. E voilà, sì come una scucchia palli da sei. Azione integrale, ecco di nuovo Luigi in azione, in conduzione stretta. Monteprata 2 febbraio. Eccolo che arriva, eccolo che arriva. Ecco Gigi in conduzione. E voilà. Grazie. Grazie. Grazie.